Sì, adesso stai bene. Ogni settimana, ogni giorno molto meglio di prima. In questi ultimi mesi lavoro tanto con Giorgio, anche Mauro e Jack nel gruppo Return to Performance, ma siamo positivi a guardare avanti sempre. Sì, non è stato facile in questi ultimi mesi, lavoro da solo, per due o tre mesi da solo, ma sempre positivo. Sì, lavoro tanto, lavoro duro ogni giorno, ma guardare avanti e ritorno prima possibile. Non verrà l'ora di tornare in questo gruppo. Pre-season è sempre difficile. Tanto nuovi giocatori, ma giocatori molto bravi. Per me non è semplice lavorare da solo. In palestra prima fisio per un'ora, dopo palestra per un'altra ora, e dopo cardio, correre. Sì, ma sono molto positivo e ogni settimana, ogni giorno molto meglio. Sì, siamo una buona squadra, ma dobbiamo lavorare duro e credere nel nostro progetto. Io sono molto entusiasta per la prossima stagione, per creare qualcosa di speciale. Personalmente, per me il ritorno prima possibile è più forte di prima. Questo è molto importante per me e anche rimane positivo. Non è facile, ma sì, rimane positivo mentalmente e anche se sei fisico. Sì, la scorsa stagione è un po' difficile per me. Prendi un piccolo botta contro l'Inghilterra e due mesi dopo un altro infortunio contro Toulon. Ma sì, l'importante per me è lavorare duro, credere nel mio lavoro e ritornare prima di possibile. Adoro le persone, in Treviso, in città, in credere nel nostro progetto, in credere nel nostro club. Semplicemente io voglio vincere e creare qualcosa di speciale. Sì, veramente, grazie mille per il tutto il supporto. Davvero molto significato per me. Non è facile, ma io sono sempre positivo e non vedo l'ora e ritorno. Ci vediamo presto e Monigo. Ciao, ciao.